Le comunità monastiche come ricchezza spirituale è costante richiamo a cercare le cose di lassù per vivere nella giusta misura le realtà terrene. Papa Francesco si è rivolto ai 250 monaci partecipanti al capitolo generale dell'ordine dei Cistercensi della Stretta Osservanza, ricevuti in Vaticano esortandoli ad individuare percorsi ed obiettivi che consentano loro di vivere con autenticità la vocazione, così da essere innanzitutto testimoni di preghiera assidua sull'esempio di San Benedetto. Si tratta di essere non dei professionisti, in senso negativo, ma degli innamorati della preghiera, considerando la fedeltà esteriore alle pratiche e alle norme che la regolano e ne scandiscono i momenti non come il fine, ma come mezzo per progredire nel rapporto personale con Dio. Così voi diventate maestri e testimoni che offrono a lui il sacrificio della lode e intercedono per le necessità e la salvezza del popolo. E nello stesso tempo i vostri monasteri continuano ad essere spazi privilegiati dove trovare una pace vera e una felicità genuina. Altro punto su cui ha insistito il Papa è la sobrietà di vita, fondamentale nell'attuale contesto culturale che troppo spesso induce al desiderio di beni effimeri e di illusori paradisi artificiali. Infine la carità nell'unità, paradigma di ogni famiglia religiosa che voglia vivere in un clima di fraternità. Il vostro ordine è un dono fatto da Dio alla Chiesa, ha concluso il Papa, chiedendo ai cistercensi di perseverare nella fedeltà a Cristo e al carisma originario. Grazie a tutti.